ecco allora no non sono impazzito perché non sono impazzito è che solo che da ieri sera e oggi mi sono imbattuto in un rompi coglioni di youtubers che mi aveva rotto i coglioni e quindi ho deciso di cambiare alcune cose quindi ho cambiato la mia presentazione qua perché visto che era lui era andato a leggere la presentazione quella vecchia che avevo messo e voleva avere ragione lui ecco e poi ho cambiato anche il mio nome qui perché prima ci avevo messo non faccio lo youtubers youtuber vabbè e allora ho detto vabbè dava troppo nell'occhio allora ho messo un nome normale con l'iniziale del mio cognome detto così almeno si camuffa in mezzo agli altri sembro che do meno nell'occhio diciamo così no e 76 nella mia data di nascita e per questo è come su questi due video qui ok allora nella mia vita io sono una persona tranquillissima ovviamente però i due video sono un po lamentoni perché ci sono delle situazioni adesso di internet che mi stanno veramente stancando e quindi sto facendo questi video apposta conterà quello che conta capirai allora nel caso che arriverà perché arriverà capiterà un altro rompi coglioni almeno se si guarda questi due video che si tolga dai coglioni da solo e che la smette di rompere i coglioni va bene perché commentare perché ho fatto un commento dicendo che secondo me quelli che vanno a segnalare le bottiglie di acqua frizzante perché lui deve fare le recensioni perché lui dice e lui praticamente non sa che cazzo fare durante il giorno e poi dopo dice segnalatemi pure di fatemi sapere quali acqua frizzante secondo voi sono più gasate meno gasate di qua di là e dopo la gente va a dirgli questa qui questa qui questa qui ecco per me ho scritto così quella gente lì non ha un cazzo da fare durante il giorno durante la vita ora questo idiota mi viene a dire a me che io ho fatto del ciberbullismo allora la differenza che c'è il ciberbullismo è un altro tipo di cosa questo è un altro che non è ciberbullismo non è neanche offendere è semplicemente aver espresso un'opinione credo comunque commentare significa anche interagire non significa fare i complimenti commenti non è uguale a complimenti è un'altra cosa siccome che gli youtuber si aspettano dalla gente che facciano solo i complimenti capito hanno rotto il cazzo e che io mi sto rompendo i coglioni quindi io come mi sono cancellato da facebook nel dieci anni fa più o meno di circa dieci anni fa mi sono cancellato perché mi stavo rompendo mi sono rotto i coglioni anche lì bene perché lì più o meno la situazione era uguale se continuo andare davanti questo passo forse un giorno mi cancellano anche da youtube perché mi sto veramente rompendo i coglioni anche lì qua che ho visto che i social vanno bene per questa gente di merda che del cervello c'è solo dalla merda e basta e allora gli ho detto c'è gli ho detto insomma non avete un cazzo comunque il ciberbullismo è un esempio questo genere qua allora ci sono state delle persone tempo fa che mi avevano commentato semplicemente con ha 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 che cazzo vuol dire questo è il ciberbullismo stop cancellato commento bloccato canale persona eccetera eccetera fuori dai coglioni questo è il ciberbullismo il ciberbullismo è tipo quello che viene a rompere il cazzo che dire ma non puoi fare le riprese col telefonino in orizzontale in verticale in obliquo di qua di là ecco quello è quasi il ciberbullismo c'è per dire se non ti va bene vaffanculo cioè no ecco ma io sono trasparente di quelle cose vere sono sincero quindi non mi frega niente io ho semplicemente commentato dicendo questo esattamente testuali parole secondo me quella gente che va a segnalare le bottiglie d'acqua frizzante è gente che non ha un cazzo da fare durante il giorno durante la vita questa persona è venuta sul mio canale è andato a leggere qui per ribaltare la frittata dicendo che io avendo fatto quel commento fatto del ciberbullismo ecco questo è una gran testa di cazzo allora io adesso l'ho già bloccata sul mio canale non si può più entrare per entrarci bisogna avere un auto account oppure non essere iscritti perché alla fine così e basta finita lì poi se per caso rientra o un altro idiota come lui ne arriveranno sicuramente andranno a vedere ho cambiato la mia presentazione eccola qua la mia nuova presentazione e poi ho messo questi due video qua che poi quindi c'è anche la presentazione quindi che non l'avrei mai fatta io ho fatto anche la presentazione che tanto dura 7 7 minuti 44 ma tanto sti rincoglioniti dopo un minuto due gli fumo il cervello stopperanno il video o inizieranno a commentare senza neanche aver visto aver visto il tutto il resto del video ho ascoltato ecco per dire se conta qualcosa ma per me conta un cazzo comunque vediamo perché poi quello che quando veramente conterà qualcosa conterà quella cosa che io farò cioè che mi cancellerò da youtube basta a quel punto di dirò basta io lascio youtube agli altri che facciano quel cazzo che vogliono loro perché io mi sto veramente rompendo i coglioni perché anche quando facevo semplicemente dei video normali che facevo vedere una cosa fatta fatta da me c'era sempre un cretino che arrivava e rideva non so che cazzo c'è da ridere o che avevo qualcosa da dire tanto per dire cosa che anche se fai le cose normali c'è sempre l'idiota che deve rompere i coglioni io non vado a rompere i coglioni agli altri come fanno gli altri cioè non vado a rompere i coglioni agli altri perché fanno qualcosa con le proprie mani o che sia una cosa intelligente o perché no però quando vedo dei video stupidi come quello non ce la faccio cioè più forte di me devo dire qualcosa devo dirla non è che sono sempre lì dalla mattina alla sera incollato per carità però ripeto io non guardando la televisione passo la serata mi guardo i film su internet in streaming non certo passo a vedere il tempo della mia vita su quei video di merda però ogni tanto 5 minuti ogni tanto così guardare le stronzate ogni tanto dico li vado a vedere le minchiate le novità che fanno poi vedo che se c'è qualcuno che ha fatto delle novità tutti gli altri li corrono dietro a copiare quello che ha fatto la cosa che ha fatto l'altro no perché amo se lo fa lui lo facciamo anche noi perché vediamo un po s è tutto un cuore dietro agli altri tutta sta gente che non ha un cazzo da fare durante il giorno fra un po faranno anche le recensioni su un dente se vanno dal dentista si fanno cambiare il dente faranno anche la recensione sul dente magari chiederanno al dentista di mettere il dente dentro a un piatto a un non so a un a una tazzina si porteranno a casa il dente che gli è stato tolto poi faranno la recensione sul dente così faranno le visualizzazioni i mi piace le iscrizioni ecco così sono felici e contenti fanno i soldini eh e poi dopo la mattina vanno fuori a far colazione al barettino eh con i soldi degli altri vaffanculo a te la tua brioscina di merda il tuo cappuccino di merda e tutte ste robe qua e poi vanno a fare anche la benzina con i soldi degli altri vabbè ecco è tutto lì discorso perciò è ora di farla finita allora c'è esistono le cose stupide va bene perché è una cosa stupida recensire una bottiglia dell'acqua è una cosa stupida che non ha un senso logico un conto è parlare di certe cose per informare un conto è dire delle cretinate è una cosa completamente diversa cretinate significa che non ha significa che è un video non da alcune non insegna nulla non non da nulla a livello di livello di crescita non da assolutamente nulla se è solo un video stupido e ignorante come fare un video sulla nutella non credo che ci sia nulla da imparare tutto lì invece c'è gente che per esempio fanno i quadri fanno i dipinti non so costruiscono delle delle lampade costruiscono dei tavoli fanno vedere come fanno non so a riparare non so i motori che ne so quelle cose lì e quella gente brava quella gente che sa fare non sono video stupidi quelli che sono video che possono anche insegnare possono anche non solo far divertire ma anche insegnare ecco i video stupidi sono quelli che che fanno le recensioni sulla bottiglia dell'acqua frizzante qual è quella più frizzante quella meno frizzante cioè quelli sono stupidi video stupidi e lo dico perché non me ne frega un cazzo perché penso che è così perciò un idiota che non si azzardi mai più a venire sul mio canale a venire a sfottere a me ecco quindi questi due tre video che ho fatto sono proprio per quegli idioti come te che vengono qua a rompere i coglioni che non hanno un cazzo da fare durante il giorno che andare a rompere il cazzo agli altri allora è ora di farla di finita la differenza che non sapete qual è la differenza tra il cibo e il bullismo è una persona normalissima che fa un commento normalissimo avete rotto il cazzo quindi commenti non è uguale a complimenti non esistono solo i complimenti fa un culo e poi è meglio è meglio che stai sveglio perché ammesso che ci arrivi una certa età quando andrai in pensione se ci arrivi all'età pensionabile se ci arrivi tanto non ci arrivi dopo non ti versano le i contributi a fare a fare gli youtubers coglione a meno che non ti paghi adesso già una pensione privata ecco te la fai tu perché ma fa la pre fai presto perché youtube non sappiamo quanto tempo durerà può darsi con giorno perché adesso il sistema e lo stato che sta facendo questo è lo sta facendo apposta per a voi che non avete ancora capito un cazzo per farvi credere di star bene di farli di fare i superiori perché voi avete fatto i soldi gli altri pensate che siano tutti dei poveretti siete poveretti nel cervello ecco perché quando arriverà il momento che che prima o poi youtube cambierà le cose se non cambierà proprio chiuderà e ne aprirà un altro tipo perché non mai dire mai negli anni dopo voglio vedere cosa fate dopo quando andrete nell'età pensionabile è andate in pensione con quella sociale con 500 euro al mese e voi non andrete avanti neanche con 100 euro la settimana non ce la farete nemmeno se vi si rompe un qualcosa in casa non sarete neanche capace di sistemarvi la tapparella di cucirvi un bottone di riparare un qualcosa che si rompe non serve non saprete capace di fare un cazzo che dopo con quei pochi soldi li non avete soldi da andare a spendere comprare una cosa nuova se vi si rompe dopo ve ne accorgerete a fare gli youtubers coglioni deficienti imbecilli rincoglioniti andata a fan culo grazie a tutti